Finisce così il campionato del Napoli, questa trentottesima giornata, Spezia Napoli 0-3, una partita che fondamentalmente abbiamo visto, perlomeno io ho visto senza particolari aspettative, perché già sapevamo ovviamente che il Napoli aveva già raggiunto l'obiettivo che doveva raggiungere, dall'altra parte lo Spezia ha anche squadra che già si era salvata, quindi si andava a vedere una partita una sorta di amichevole, forse un po' così è stata, è stata una sorta di amichevole, le squadre hanno provato, comunque hanno giocato, ma senza troppo esagerare, ma come già si aspettava, ripeto, si aspettava proprio questa partita. I tre gol venuti tutti nel primo tempo, pochissimi minuti, tra Politano, appunto Zielischi, che erano mesi che non segnava, e una bella azione poi di Diego Demme, squadra tra l'altro che è entrata in campo con otto undicesimi, praticamente riserve, perché gli unici titolari, almeno all'inizio erano solo Koulibaly, lo stesso Politano e Lobotka, immenso Lobotka, ovviamente di individualità, poi ne parleremo domani mattina con le pagelle, e una partita normale, ripeto, a cui non c'erano tante aspettative. Va bene così, tutto sommato, diciamo che come già avevo detto settimane precedenti, si chiude oggi questo campionato, 50 e 50, da come la vedo io. 50% si poteva fare di più, assolutamente sì, per la rosa che tu avevi potevi fare di più. L'altro 50% è perché, lo metto perché comunque tu hai raggiunto, Spalletti nello specifico, ha raggiunto l'obiettivo, ci siamo qualificati alla Champions, abbiamo chiuso ad un terzo posto, e quindi non gli si può dire poi troppo questo discorso, ecco perché 50 e 50. 50% perché resta un po' il rammarico, perché si poteva fare di più, si poteva fare di più. Dall'altra parte però, va bene così, va bene così. Per quanto riguarda oggi, l'unica nota veramente, e lo dico con dispiacere perché poi sto sempre a dire le stesse cose, ragazzi, nel 2022, ancora vediamo queste brutte cose tra i tifosi, queste bruttissime cose che si sono viste a un certo punto, che hanno addirittura nel primo tempo bloccato un quarto d'ora la partita, una partita che non aveva niente più da dire, ripeto, lo Spezia era già salvo, il Napoli già era terzo posto in qualificazione Champions, c'è stato un quarto d'ora di blocco della partita perché i tifosi hanno litigato tra loro, i napoletani, alcuni napoletani con lo Spezia, ragazzi. Per me è una cosa proprio scandalosa questa. Mi dispiace che l'ho detto dopo, anzi l'avrei forse dovuto dire all'inizio, perché è la cosa peggiore, veramente, è proprio scandaloso. Io spero che dopo quest'ennesima situazione, chi di dovere faccia qualcosa, perché questa gente non può andare allo stadio, tra l'altro uno stadio, stadio dello Spezia che oggi era pieno di bambini, ma veramente, ragazzi, ma è roba proprio brutta, ancora ora sto vedendo inquadrature con tanti bambini, ma veramente, è uno dei motivi per cui molte famiglie non portano i bambini allo stadio, perché ci sono questi dieci, undici idioti che vanno a fare questi casini negli stadi, vanno proprio con quel pensiero, al di là di quello che poi succede fuori agli stadi. Io non capisco come sia possibile far entrare ancora oggi questa gente. Vabbè, comunque, ripeto, il campionato è andato così come è andato, l'abbiamo detto poco fa, 50% si poteva fare di più, l'altro 50% va bene così, ora ovviamente seguiamo quello che sarà il calciomercato, che in realtà è già iniziato, ma vedremo che cosa ovviamente ci terrà in serbo il nostro presidente. Detto questo, grazie a tutti quanti come sempre, io mi raccomando lasciate like e soprattutto iscrivetevi a questo canale.